La volta La volta scorsa vi avevo già fatto vedere una simulazione simile a questa, qui ho aggiunto alcuni dettagli, qui parto già da una cosa che conoscete, c'è un punto materiale P che si muove sul traiettore circolare, quindi partiamo dal moto circolare uniforme. Simulazione fatta con GeoGebra del moto armonico che noi abbiamo associato al moto circolare come sua proiezione, quindi c'è il punto materiale P che si muove sul traiettoria circolare, come vedete. È un po' lenta la simulazione, ma il concetto penso che vi sia chiaro. La sua proiezione ortogonale fatta su un qualsiasi diametro di questa circonferenza è un altro, pensiamolo come un altro punto materiale, e il moto seguito da questa proiezione lo chiamiamo armonico. Dobbiamo un attimo vedere alcune delle caratteristiche di questo moto, e per fare questo andiamo a visualizzare altri dettagli sia del moto circolare che del moto armonico. Intanto rendiamo visibile il raggio vettore che indica la posizione del punto P, man mano che passa il tempo. Dopodiché andiamo a visualizzare la velocità del punto materiale P. Anche qui vedete che si tratta di un vettore perpendicolare al vettore raggio, e lo vedete muoversi pian piano. Questo vettore mantiene inalterata la sua lunghezza nel tempo, ma la sua direzione cambia continuamente. Fino adesso stiamo vedendo caratteristiche del moto del punto P, non della sua proiezione. La proiezione sta lì sotto. Aggiungiamo anche l'accelerazione centripeta, che come vedete ha la stessa direzione del raggio vettore, ma il verso opposto. Punta sempre verso il centro e mantiene invariata la sua lunghezza, ma non la sua direzione. Come vedete, le direzioni relative fra questi vettori si mantengono inalterate, ma le direzioni in assoluto cambiano da istante a istante. A questo punto spostiamo la nostra attenzione sul moto della proiezione e rendiamo visibile anche il raggio vettore, che indica stavolta la posizione del punto P che si sta muovendo di moto armonico. Una delle caratteristiche del moto armonico è che la sua traiettoria è rettilinea, non è bidimensionale, solo che non è come altri tipi di moto rettilineo che abbiamo già studiato in passato, cioè non è uniforme, non è uniformemente accelerato, ha delle sue caratteristiche peculiari, lo chiamiamo armonico, ed è periodico esattamente come il moto circolare. Anzi, in questo caso, nella relazione tra il moto circolare e la sua proiezione, abbiamo esattamente lo stesso periodo. I due tipi di moto condividono parecchie cose, anche alcune delle formule che usiamo tipicamente per calcolare alcune grandezze in funzione di altre, per esempio la velocità in funzione del raggio o l'accelerazione centripeta in funzione della velocità. A questo punto vi faccio vedere quello che succede quando andiamo a vedere come cambia nel tempo la direzione del vettore v. Andiamo a visualizzare un'altra circonferenza che ha per raggio il valore della velocità. Vado a visualizzare anche il relativo vettore. Se vedete, il vettore v nuovo che ho disegnato è esattamente parallelo al vettore velocità che è applicato al punto materiale P. Adesso faccio muovere la simulazione. Come vedete, i due vettori girano insieme come direzione. Semplicemente il secondo ha la sua posizione di partenza che è fissa, mentre il suo analogo si muove insieme al punto P. Questo secondo moto circolare che state vedendo ha tutte le caratteristiche di un tipico moto circolare, sincrono rispetto al primo, cioè hanno lo stesso periodo. C'è solo uno sfasamento per quanto riguarda la posizione, perché il raggio vettore, come vedete, è ruotato di 90 gradi rispetto al vettore velocità. A questo punto andiamo a visualizzare la velocità del secondo punto materiale, quello che si muove insieme al vettore velocità qui a destra. E questa diventa automaticamente l'accelerazione. La visualizziamo. Il nuovo vettore accelerazione, come vedete, è esattamente parallelo al primo che è applicato al punto P. Si mantengono sempre parallele tra di loro. E la relazione tra queste due circonferenze è quella che ha permesso di ottenere la formula per il calcolo dell'accelerazione centripeta. Poiché i due moti sono con lo stesso periodo, voi avete che il rapporto fra la velocità del moto e l'accelerazione coincide con il rapporto tra il raggio della prima traiettoria e il valore della velocità. E da qui è possibile, con questa proporzione, arrivare al valore dell'accelerazione centripeta, che è pari a V al quadrato fratto il raggio, formula che abbiamo imparato ad utilizzare. Ora torniamo a porre l'attenzione al moto armonico. Questo moto armonico non è caratterizzato soltanto dal vettore posizione, ha a sua volta una sua velocità e una sua accelerazione. Cominciamo a visualizzare il vettore velocità, sia sulla circonferenza di destra. Come vedete, la velocità di questo nuovo moto circolare è stata proiettata anche qui sulla direzione orizzontale e questa permette di ottenere la velocità del moto armonico. Una differenza fondamentale con il moto circolare di provenienza. Mentre il moto circolare ha un modulo di velocità costante, il moto armonico ha il valore della velocità che anche numericamente cambia costantemente nel tempo. Se vedete, raggiunge il suo valore massimo quando la velocità è perpendicolare, o meglio, è parallela alla traiettoria del moto armonico. Che invece raggiunge il suo valore minimo quando la velocità è perpendicolare. Qui la velocità è perpendicolare alla direzione del moto armonico. Come vedete, la velocità del moto armonico è nulla e questo succede quando avete la massima estensione. Il punto materiale soggetto al moto armonico ha raggiunto la posizione di massimo allontanamento. Se poi vi portate invece su un quarto di periodo più avanti, ecco che la velocità del moto circolare è parallela alla direzione del moto armonico. V e V con X, V con X è la velocità del moto armonico, in questo caso coincidono esattamente. V è la proiezione ortogonale sulla direzione orizzontale. E così via periodicamente andando. Ovviamente, com'è possibile ottenere il valore della velocità V con X come proiezione ortogonale? Gioca un ruolo fondamentale l'angolo rispetto alla direzione del semiasse positivo delle X, che come vedete varia costantemente fra 0 e 360 gradi man mano che il giro procede. Adesso vi faccio vedere un attimo la relazione esistente fra le coordinate spaziali X e Y e il raggio vettore R. Come vedete, contano il seno e il coseno di quest'angolo. La coordinata X, che rappresenta la posizione del moto armonico, si ottiene dal raggio vettore moltiplicando per il coseno dell'angolo che vedete qui. Qui c'è anche il valore numerico del coseno man mano che l'angolo cambia. Per esempio, quando l'angolo diventa 90 gradi, si annulla il coseno, o quasi, e diventa 1 il seno. Quando invece l'angolo è 180 gradi, il coseno diventa meno 1, il seno diventa 0, e così via. Aggiungiamo un elemento in più. L'elemento in più che andiamo ad aggiungere è proprio la proiezione ortogonale, stavolta, del vettore accelerazione sulla direzione del moto armonico, perché sarà questa proiezione ortogonale a caratterizzare l'accelerazione del moto armonico. Dovreste vederlo aggiungersi ad esso, e lo vediamo sia sulla circonferenza di sinistra, laddove vedete direttamente il moto del punto materiale, sia quello che fa moto circolare, sia la sua proiezione su un moto armonico. Come vedete, l'accelerazione è rivolta verso destra quando il punto materiale si trova a sinistra, e quando il punto materiale invece si sposta a destra, adesso lo vedrete dopo mezzo periodo circa, ecco, adesso che il punto materiale si trova a destra, l'accelerazione è rivolta a sinistra. Questa accelerazione possiamo chiamarla accelerazione di richiamo. Non è propriamente un'accelerazione centripeta, perché pur puntando verso il centro, non stiamo parlando del moto circolare, la nostra attenzione adesso va al moto armonico. Un attimino, per rendere più chiaro il disegno, faccio sparire il raggio vettore. Adesso è più chiara la presenza del vettore accelerazione, dico, messo vari al variare della posizione. Vi faccio notare anche che quando il punto materiale arriva alla sua massima estensione a destra, la velocità è nulla e l'accelerazione assume il valore massimo, che corrisponde esattamente col valore dell'accelerazione centripeta del moto circolare di provenienza. Dopo un quarto di periodo, invece, l'accelerazione va diminuendo di intensità e raggiunge il suo valore minimo zero esattamente quando, invece, è massima la velocità. Quando il punto materiale si trova al centro, l'accelerazione è nulla. Vedrete poi, con le leggi della dinamica, che questo ha un corrispettivo sul valore della forza di richiamo, che è una forza che dovete pensare come esercitata da una molla, una forza che obbedisce alla legge di Hooke. E così via. Lo vedete anche qui. L'accelerazione centripeta ha sempre la stessa lunghezza, ma l'accelerazione A con X ha una lunghezza variabile, che raggiunge esattamente il valore di A con C solo in determinati istanti. L'accelerazione del moto armonico ha come valore massimo il valore dell'accelerazione centripeta del moto circolare di provenienza, e quindi è pari al modulo della velocità massima al quadrato fratto il raggio. Ci siamo? Così come la velocità massima corrisponde col valore della velocità scalare del moto circolare di provenienza, e quindi può essere calcolata come 2π per il raggio fratto il periodo. Nella maggior parte degli istanti di tempo, però, i valori non sono quelli massimi. Per esempio, l'accelerazione in generale è pari a quella massima moltiplicata per il coseno dell'angolo Φ e con un segno cambiato perché è un'accelerazione di richiamo. La posizione nel moto armonico è pari al valore del raggio vettore, quindi l'ampiezza del moto armonico, per il coseno dell'angolo. Quindi la posizione x è data dal raggio, ovvero l'ampiezza del moto armonico, per il coseno dell'angolo Φ. Se adesso andate a confrontare questa relazione con questa, vi accorgete che entrambe contengono il coseno dell'angolo e infatti il rapporto fra posizione e accelerazione è costante. Qui abbiamo il raggio vettore, qui abbiamo il coseno dell'angolo, qui abbiamo il valore dell'accelerazione massima cambiato di segno e il coseno dell'angolo. Semplificate il coseno che è lo stesso, l'angolo Φ chiaramente cambia con il tempo, come avete visto nella simulazione, però nel momento in cui il coseno di Φ scompare, il rapporto fra x ed a, che pure sono grandezze variabili, è costante ed è pari al rapporto fra il raggio e il valore massimo dell'accelerazione. Questa cosa è importante conoscerla perché ci aiuterà nel comprendere poi il moto armonico nell'ambito delle forze che lo generano. In ogni caso, vedete così che la posizione e l'accelerazione sono direttamente proporzionali fra di loro, visto che il rapporto è costante, anzi possiamo scriverlo in termini di accelerazione uguale posizione per meno accelerazione massima fratto il raggio. Ora, con queste informazioni preliminari andiamo a prendere l'esercizio, così vediamo come applicare questi concetti. Il numero 55, se non sbaglio. Un punto scilla di moto armonico con pulsazione uguale a 1,2 radianti al secondo. Ora vi ricordo che quando sentite parlare di pulsazione è solo una questione di nome, di fatto è la velocità angolare del moto circolare di provenienza. La chiamiamo pulsazione se parliamo di moto armonico. Calcola la sua velocità massima se l'ampiezza del moto è di 0,65 metri. L'ampiezza del moto è ciò che nel moto circolare è il raggio, quindi è r per noi. Allora, velocità massima. Noi sappiamo che la velocità massima corrisponde con la velocità del moto circolare di provenienza, quindi non c'è bisogno di usare senio, coseno o nulla, basta ricordarsi le formule per il moto circolare e potete rispondere alla domanda dell'esercizio. Infatti noi sappiamo che nel moto circolare la velocità è legata alla velocità angolare dalla relazione ω per r, e per noi questo r è l'ampiezza. Questa è la pulsazione. Le formule sono quelle del moto circolare e cambiano i nomi. 1,2 radianti al secondo è la pulsazione, 0,65 è il valore dell'ampiezza. C'è solo la difficoltà concettuale di associare al moto armonico le stesse formule che utilizziamo per il moto circolare, quindi 1,2 radianti al secondo per 0,65 metri. Vi ricordo che quando compare un'unità di lunghezza, l'unità dell'angolo non è più indispensabile. Vi ricordo che l'angolo di per sé, da un punto di vista fisico, è una grandezza adimensionata, quindi ciò che compare è semplicemente 1,2 per 0,65 metri su secondi. Il valore dell'unità di misura, che è metri su secondi, 1,2 per 0,65, potete farlo facilmente e avete il vostro risultato. Dovrebbe venire qualcosa in più 0,7, 0,8, una roba del genere. 0,78. Infatti nel 56 che vi avevo lasciato, che insomma credo che avete fatto, chi mi ha consegnato gli esercizi ha fatto, qual è la pulsazione di un manicotto che oscilla lungo un binario se il moto armonico ha un'ampiezza di 0,41 metri e il manicotto passa nel centro di oscillazione alla velocità di 2,9 metri al secondo. Vi faccio notare una cosa, qua non vi sta dicendo esplicitamente che 2,9 metri al secondo è la velocità massima. Vi dice che il manicotto passa nel centro di oscillazione alla velocità d. Qui la domanda che potrebbe esorgere, quindi potrebbe essere una piccola trappola nel fare l'esercizio, è ma 2,9 è la velocità massima oppure no? Abbiamo imparato dalla simulazione che la velocità massima viene raggiunta esattamente quando il punto materiale passa proprio nel centro. Adesso lo fermiamo proprio nel momento in cui, ecco qui, ci siamo arrivati quasi. Quando siamo nel centro il vettore v con x e il vettore v del moto circolare hanno esattamente la stessa lunghezza, quindi il dato che vi sta fornendo è quello di velocità massima. Una volta che sappiamo che 2,9 è la velocità massima, è chiaro che potete ragionare di formula inversa con le stesse relazioni che avete utilizzato nell'esercizio precedente. Nell'esercizio 57, che vi avevo pure lasciato, non ci sono da fare calcoli. Più che altro vi chiede di lavorare graficamente. Vi viene proposta una rappresentazione simile a quella che vi ho proposto io in modo dinamico, in cui avete un moto circolare, la sua proiezione su un diametro AB e la proiezione è il punto Q che si muove di moto armonico. "-s", rappresenta qui l'allontanamento della posizione di equilibrio, con il segno meno espresso perché il punto materiale in questo momento si trova a sinistra. Vi chiede di completare il disegno tracciando il vettore accelerazione A con C, cioè l'accelerazione centripeta del moto circolare, e il vettore accelerazione A nel punto Q. Quindi la richiesta che vi viene fatta è di tipo concettuale mettere i corretti valori dell'accelerazione sia per il moto armonico sia per il suo progenitore, cioè il moto circolare di cui abbiamo fatto la proiezione. Una volta che avete visto la simulazione dovreste sapere come procedere, anzi ci mettiamo più o meno nelle stesse condizioni dell'esercizio. Il punto materiale si trova qui a sinistra, la posizione X, come vedete, è negativa come indicata nell'esercizio, però come vedete io ho rappresentato con due verdi con tonalità leggermente diverse il vettore accelerazione centripeta che è rivolto verso il centro partendo dal punto materiale e che qui invece vedete a destra applicato al punto materiale immaginario che rappresenta il movimento del vettore velocità e invece qui sull'asse orizzontale vedete la sua proiezione ortogonale che rappresenta il vettore accelerazione. Che si tratti di proiezione ortogonale lo possiamo rendere evidente in questo modo. Se vedete qui c'è la perpendicolare abbassata sul diametro orizzontale partendo dall'estremità del vettore accelerazione centripeta e mi va ad indicare, a individuare l'estremità del vettore accelerazione del moto armonico, come vedete, istante per istante. Qua c'è una rappresentazione in cui la proiezione è intesa in senso ottico, vi fa vedere un'automobile che si muove su una traiettoria circolare e poi vi fa immaginare una lampadina che proietta un'ombra dell'automobile su un muro. L'ombra di quest'automobile sul muro si dovrebbe muovere approssimativamente di moto armonico, secondo lo schema che abbiamo visto.